Pace e bene a tutti i nostri telespettatori, i titoli di questa edizione del nostro telegiornale. Papa Francesco, rivolto ai membri dell'Associazione Corallo, voi siete voce di una chiesa che non ha paura di entrare nei deserti dell'uomo. Un leader spirituale straordinario, coraggioso e saggio, è deceduto il patriarca Siro Ortodosso di Antiochia, Ignazius Zacca. Il cardinale Bagnasco esorta i genitori a non farsi intimidire e a battersi per la libertà educativa. Di fronte all'ideologia del gender non c'è autorità che tenga. Sono 109 i fedeli uccisi negli ultimi attacchi di Boko Haram, continua in Nigeria il martirio dei cristiani. Restaurata la chiesa dei Cappuccini in via Veneto a Roma, un restauro durato quasi due anni. Papa Francesco, rivolto ai membri dell'Associazione Corallo, voi siete voce di una chiesa che non ha paura di entrare nei deserti dell'uomo. Il 22 marzo scorso, Papa Francesco ha ricevuto in udienza nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano i membri dell'Associazione Corallo, network di emittenti locali di ispirazione cattolica, presenti in tutte le regioni italiane. Ecco cosa ha detto loro il pontefice. Questi emittenti vogliono esprimere l'impegno della chiesa che è in Italia ad essere vicina e amica di ogni persona e parlare alla gente lì dove abita, vive, lavora, ama, soffre. Voi siete una rete. Vorrei partire da questa immagine che ci fa pensare ai primi discepoli di Gesù. Erano pescatori, lavoravano con le reti. E Gesù li chiamò a seguirlo e fece di loro dei pescatori di uomini. Anche voi potete essere pescatori di uomini con questa vostra rete di radio e televisioni locali che abbraccia tutta l'Italia. Una rete è semplice, è popolare e così è bene che rimanga. Raggiungendo ogni città e ogni contrada, le vostre emittenti si pongono come strumenti affinché la voce del Signore possa essere ascoltata da tutti. Mi viene in mente l'episodio del profeta Elia sul monte Oreb quando sta davanti alla caverna e assiste a fenomeni sconvolgenti. Il vento impetuoso, il terremoto, il fuoco. Ma il Signore non parlava in quel modo. Poi Elia sente il sussurro di una brezza leggera e in quel sussurro ascolta la voce del Signore che gli parla. Ecco, le vostre radio e televisioni, insiste il Papa, possono trasmettere attraverso lettere qualcosa di quella voce perché parli agli uomini e alle donne che cercano una parola di speranza, di fiducia per la loro vita. In questo modo voi siete voce di una Chiesa che non ha paura di entrare nei deserti dell'uomo, di andargli incontro, di cercarlo nelle sue inquietudini, nei suoi smarrimenti, dialogando con tutti, anche con quelle persone che per tanti motivi si sono allontanate dalla comunità cristiana e si sentono lontane da Dio. Ma in realtà Dio non è mai lontano. Lui è sempre vicino. E voi potete contribuire a far risuonare quel sussurro leggero capace di dire a ciascuno Il Maestro è qui e ti chiama. È proprio questo essere chiamati per nome che scalda al cuore. E in che modo? Con questa vostra rete potete aiutare Gesù Cristo nella sua missione, nell'annunciare oggi il Vangelo del Regno di Dio? Anzitutto direi dando attenzione a tematiche importanti per la vita delle persone, delle famiglie, della società e trattando questi argomenti non in maniera sensazionalistica ma responsabile, con sincera passione per il bene comune e per la verità. Spesso nelle grandi emittenti questi temi sono affrontati senza il dovuto rispetto per le persone, per i valori in causa, in modo spettacolare. Invece è essenziale che nelle vostre trasmissioni si percepisca questo rispetto, che le storie umane non vanno mai strumentalizzate. E l'altro contributo lo potete dare con la qualità umana ed etica del vostro lavoro. Potete aiutare a formare quello che il Papa Benedetto ha chiamato un ecosistema mediatico, cioè un ambiente che sappia equilibrare silenzio, parola, immagini e suoni. Oggi c'è molto inquinamento e anche il clima mediatico ha le sue forme di inquinamento, i suoi veleni. La gente lo sa, se ne accorge, ma poi purtroppo si abitua a respirare dalla radio e dalla televisione un'aria sporca che non fa bene. C'è bisogno di far circolare aria pulita, che la gente possa respirare liberamente e che dia ossigeno alla mente e all'anima. Un leader spirituale straordinario, coraggioso e saggio, è deceduto il patriarca siro-ortodosso di Antiochia, Ignatius Zaka. All'età di quasi 81 anni, il 22 marzo, è deceduto in un ospedale a Kiel, in Germania, dove era stato ricoverato circa un mese fa, il patriarca siro-ortodosso di Antiochia e di tutto l'Oriente, Ignatius Zaka i Ivas. A dare la notizia della scomparsa del leader religioso è stata l'agenzia ufficiale Sana. L'anziano patriarca, noto per il suo impegno ecumenico, aveva partecipato al Concilio Vaticano II in qualità di osservatore ed era stato inoltre presidente del Consiglio Mondiale delle Chiese, War Council of Churches, dal 98 al 2006. Il patriarca Zaka, primo, scrive il fondatore della comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi, era un uomo del dialogo e dell'incontro, mite ed aperto alla ricerca di ciò che unisce, preoccupato per la pace e l'unità tra le chiese cristiane e credeva fermamente nella missione delle grandi religioni, che considerava come la coscienza del mondo, per la pace e l'unità del genere umano. Con lui la chiesa, sirortodossa di Siria, martoriata dalle guerre e dal perdurare della violenza in Siria e il cui vescovo di Aleppo, Mark Gregorius Ibrahim, è stato rapito nello scorso aprile, perde un padressaggio e una guida appassionata. Di fronte all'ideologia del gender non c'è autorità che tenga. Durante la prolusione al Consiglio Episcopale Permanente della CEI, il Cardinale Bagnasco esorta i genitori a non farsi intimidire e abbattersi per la libertà educativa. È dedicata in particolare ai valori non negoziabili la seconda parte della prolusione del Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, al Consiglio Episcopale Permanente, riunito dal 24 al 26 marzo. La difesa della vita dal concepimento alla morte naturale, ha sottolineato Bagnasco, è sempre una difesa dei più deboli, affinché i più forti e senza scrupoli non debbano manipolare e piegare persone e nazioni ai propri interessi, in nome di una visione iperindividualista dell'umanità. Il sentire profondo del popolo, tuttavia, va in un'altra direzione e si sostanzia nell'impegno dei doveri quotidiani, nel senso profondo della famiglia, nella solidarietà, nelle relazioni, nell'autentico eroismo, nella dedizione ai malati e agli anziani, nella passione responsabile nell'educazione dei figli. È in questa rete virtuosa che risiede la speranza nel futuro del Paese e la possibile rinascita morale e spirituale per la quale serve una conversione dall'io al noi e dal mio al nostro. Vi sono, ha proseguito Bagnasco, numerosi diritti umani proclamati e di fatto violati, come ad esempio i diritti del bambino, oggi sempre più aggredito, ridotto a materiale organico da trafficare o a schiavitù o a spettacolo crudele o ad arma di guerra, quando non addirittura esposto all'aborto o alla tragica possibilità dell'eutanasia. Tragedie come queste gridano vendetta al cospetto di Dio, ha detto il porporato. Il presidente della CEI ha menzionato anche la tratta delle donne, le numerose forme di violenza e di barbara criminalità perpetrate ad opera delle forme organizzate e mafiose, citate venerdì scorso da Papa Francesco durante la veglia in memoria delle vittime della mafia. Anche la libertà religiosa è ancora perseguitata in troppe regioni del mondo, ha proseguito Bagnasco, accennando poi a conflitti come quello ucraino, per il quale il porporato ha ricordato la gratitudine della comunità cristiana per le 24 ore di adorazione e riconciliazione proposte da Papa Francesco per tutte le diocesi. Bagnasco ha poi accennato alla urgenza del compito educativo, alla sacrosanta libertà dei genitori nell'educare i figli e al diritto ad una scuola non ideologica e supina alle mode culturali imposte, alla preziosità irrinunciabile che la scuola cattolica offre in tal senso. La famiglia, disprezzata sul piano culturale e maltrattata sul piano politico, come affermato da Papa Francesco qualche tempo fa, viene spesso rappresentata come un capro espiatorio, anziché come un presidio universale di un'umanità migliore e la garanzia di continuità sociale, ha detto il cardinale. Il presidente della CEI ha quindi criticato l'iniziativa del Lunar educare la diversità a scuola che con la scusa di combattere bullismo e discriminazione instilla nei bambini preconcetti contro la famiglia, la genitorialità, la fede religiosa, la differenza tra padre e madre. La lettura ideologica del genere, ha aggiunto Bagnasco, è una vera dittatura che pretende di trattare l'identità di uomo e donna come pure astrazioni, con il rischio di fare della scuola, dei campi di rieducazione e di indottrinamento. I figli non sono materiale da esperimento in mano a tecnici o cosiddetti esperti, pertanto Bagnasco ha esortato i genitori, non si facciano intimidire, hanno il diritto di reagire, con determinazione e chiarezza non c'è autorità che tenga. Sono 109 i fedeli uccisi negli ultimi attacchi di Boko Haram, continua in Nigeria il martirio dei cristiani. Sono 109 i fedeli cattolici uccisi negli ultimi attacchi commessi dalla setta Boko Haram nella diocesi di Maiduguri, la più estesa della Nigeria, il cui territorio comprende gli stati nordorientali di Borno e Iove e un terzo di quello di Adamawa. Lo ha annunciato padre Gideon Obasagie, direttore dell'ufficio comunicazioni della diocesi di Maiduguri, in una conferenza stampa tenuta al seminario minorile di Iola. Padre Obasagie ha sottolineato che, a causa delle violenze di Boko Haram, 107 bambini sono diventati orfani e 27 donne hanno perso i loro mariti. Questi numeri dimostrano che, nonostante l'imposizione nei tre stati dello stato di emergenza nel maggio 2013, le azioni di Boko Haram si sono intensificate negli ultimi mesi. Secondo Sua Eccellenza, Monsignor Oliver Dasce Doeme, vescovo di Maiduguri, dal 2009 ad oggi 500 fedeli cattolici sono stati uccisi da Boko Haram nella sua diocesi. Confrontando questo dato con quello rilevato da padre Obasagie, si rileva che il 22% delle uccisioni sono avvenute negli ultimi mesi. Il direttore dell'ufficio comunicazioni della diocesi di Maiduguri ha inoltre ricordato che diversi fedeli sono stati rapiti nel corso dei raid commessi da Boko Haram e che la sorte degli ostaggi è sconosciuta. Restaurata la chiesa dei Cappuccini in Via Veneto a Roma, un restauro durato quasi due anni. Un restauro durato quasi due anni, la chiesa di Santa Maria Immacolata dei Cappuccini in Via Veneto a Roma torna al proprio splendore. Sono infatti rinvenuti alla luce i preziosi capolavori dell'arte italiana, quasi del tutto dimenticati. Alla presentazione del restauro stamani anche il ministro generale dei Frati Minori Cappuccini, Fra Mauro Iori. La tradizione dei frati attribuisce il crocifisso ligno, che accoglie i fedeli a Santa Maria Immacolata, al disegno di Michelangelo. Del Dominichino, invece, il San Francesco d'Assisi sorretto dall'angelo dopo le stimmate, il San Michele Arcangelo è di Guido Reni. Col restauro torna all'antico splendore la chiesa di Cappuccini in Via Veneto, in un complesso voluto da Papa Urbano VIII Barberini, che raccoglie le testimonianze più esemplari della pittura romana del 1600, ispirata alle forme sia classiciste sia neovenete dell'arte, con una singolare adesione al nascente barocco. Ha detto il padre Rinaldo Cordovani, rettore della chiesa, che la particolarità è che si tratta della prima chiesa a Roma dedicata all'immacolata Concezione di Maria. I Cappuccini hanno la spiritualità della regola francescana. I francescani hanno avuto sempre il culto, oltre che del Cristo crocifisso, del Cristo del presepe, alla Verne e Greccio, anche della madre di Gesù. San Francesco diceva «Dobbiamo venerare Maria, perché ha reso Dio nostro fratello». E qui abbiamo questa soddisfazione di avere grazie a Urbano VIII, a suo fratello Antonio Barberini, che era frate Cappuccino, la prima chiesa a Roma dedicata all'immacolata Concepita, senza peccato originale. Notizie di Casa Nostra Ordinato il nuovo Vescovo di Lanusei, Monsignor Antonello Mura. A Bosa, il 25 marzo, a solennità dell'annunciazione, nella Cattedrale di Bosa, è stato ordinato il Vescovo di Lanusei, Monsignor Antonello Mura. Il nuovo Vescovo è stato ordinato dall'Arcivescovo Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato. Con lui erano Vescovi consacranti, Monsignor Arrigomiglio, Vescovo di Cagliari, e Monsignor Mauro Maria Morfino, Vescovo di Alghero. Concelebravano con loro numerosi altri Vescovi provenienti dall'isola e dalla penisola, e alcune centinaia di sacerdoti. All'Omelia l'Arcivescovo Becciu ha detto, tra l'altro, Il popolo di Dio vuole il suo Vescovo. Sì, Vescovi pastori, pastori vicini alla gente, che hanno il coraggio di morire, la generosità di offrire la propria vita e di consumarsi per il gregge. Abbiamo bisogno di uno che ci guardi con l'ampiezza del cuore di Dio. Non ci serve un manager, un amministratore delegato di un'azienda, e nemmeno uno che stia a livello delle nostre pochezze o piccole pretese. Ci serve uno che sappia alzarsi all'altezza dello sguardo di Dio su di noi, per alzarci verso di Lui. Il 27 aprile il nuovo Vescovo farà il suo ingresso nella sua diocesi di Ilanusei. Il rito di accoglienza avrà luogo nel santuario di Nostra Signora di Ogliastra, tenuto dai frati Cappuccini. Alcuni avvisi, infine, per coloro che frequentano il nostro santuario. Ogni venerdì di quaresima nel nostro santuario ha luogo il più esercizio della Via Crucis, una prima volta alle ore 17.15 e una seconda volta alle ore 21. Lunedì 31 marzo, come negli altri lunedì di quaresima, dopo la Messa della Sera, quindi intorno alle 19.30, avrà luogo il quarto ad ora della fede, cioè approfondimenti sui testi della liturgia della domenica precedente e più in generale sulla vita cristiana, guiderà la riflessione Padre Tarcisio Magia. Ricordiamo ancora che al giovedì di ogni settimana dalla nostra Chiesa ha luogo l'adorazione eucaristica del Santissimo Sacramento, esposto continuativamente tutto il giorno dalle ore 9.30 alle ore 17. L'adorazione si propone di chiedere al Signore il dono di numerosi e santi sacerdoti e religiosi per la sua Chiesa e in particolare per il nostro Ordine Cappuccino. Venerdì 28 marzo, ultimo venerdì del mese, sarà dedicato alla preghiera per la canonizzazione del Beato Nicola, perciò la Santa Messa delle ore 18 sarà celebrata da Padre Ignazio Melis, vice postulatore. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo entrerà in vigore l'ora legale. Pertanto la Messa Vespertina nei giorni feriali sarà celebrata alle ore 19. La domenica e nei giorni festivi le due messe della sera saranno celebrate alle ore 18 e alle ore 19. In chiusura vi offriamo alcune immagini del quarto d'ora della fede che ha avuto luogo lo scorso lunedì 24 marzo nel nostro santuario. Pace e bene a voi tutti. Pace e bene a voi tutti. Grazie a tutti.